Questo è un piccolo luogo che è una sala d'aspetto, è un luogo del ricordo, un luogo del ricordo che viene onorato molto spesso tra l'altro da letture, momenti di musica, momenti di arte che aiutano anche la gente a ricordare, le persone che transito da queste parti a ricordare. E' credo che sia estremamente importante perché la memoria è un fatto fondamentale, finché c'è la memoria avremo la possibilità di arrivare anche ai mandanti e agli ispiratori politici di questa strage, tolto quella, tolto la memoria non avremo più possibilità di andare da nessuna parte. Oggi, oltre che, diciamo così, un giorno di lettura, è un giorno anche di memoria, almeno la lettura che viene fatta in questo posto e in altri posti poi che sono stati sentiti per voi. E io ringrazio tanto perché anche questo momento è un momento che si aiuta nella nostra battaglia per la giustizia e la verità. Grazie. Salve. Questa edizione dovrebbe essere dedicata al viaggio, al viaggiare, agli spostamenti più o meno volontari. E' una settimana in cui abbiamo viaggiato molto in mezzo al cretinismo. Siamo fieri di essere in una sala che è intitolata Torquato Seci e non ci dispiace dirne il nome quando ci sediamo, né tantomeno non ci deprime stare davanti a questo poltrone e sentire questo nome come non ci deprime.